Per la CGL è una mobilitazione senza precedenti, in ogni luogo di lavoro e faccia a faccia con i lavoratori. Nelle immagini vedete la segretaria generale Susanna Camusso, mentre esce dalla sede fiorentina della General Electric, dove è presentato la Carta dei diritti universali del lavoro. Il nuovo statuto, costruito sul principio che i diritti, dalla maternità alle ferie, dai permessi alla malattia agli ammortizzatori sociali, devono essere uguali per tutti, indipendentemente dall'azienda e dal contratto applicato. Sono molto interessanti, troviamo un grande interesse dei lavoratori, in particolare esattamente a questa idea di cambiare fase, cambiare stagione, di non avere più come centralità di una politica economica quella della svalorizzazione del lavoro, anche perché abbiamo capito tutti molto bene che non funziona. Per informare gli iscritti sulla nuova Carta dei diritti, la CGL sta organizzando 800 assemblee in tutta Italia. Poi, il 19 marzo, partirà la raccolta di firme per la presentazione della legge di iniziativa popolare. Noi abbiamo detto e abbiamo già cominciato, ovviamente con le nostre iscritti stiamo parlando col mondo delle professioni, del lavoro autonomo, dei tanti giovani che magari il lavoro lo cercano e quindi hanno questo obiettivo fondamentale. Quindi è già aperta una discussione che va anche oltre di noi e ovviamente nella stagione della raccolta firme andremo a bussare a tutte le porte.